Bene amici, per vedere come gira i video questo Honor 70 oggi vi porto a bordo di uno degli aerei più grandi del mondo l'Airbus 380, gigantesco addirittura due ponti e se volate in business class avete l'accesso alla lounge devo dire non grandissima quella di British Airways qui a San Francisco però da mangiare ci sono tante cose anche un po' sfiziosette qui ci sono postazioni per eventualmente lavorare e lì ci sono i dolci e le insalate perché per le portate principali bisogna scansionare questo QR code e ve le portano direttamente al tavolino voto direi 7 e come vedete l'aereo è così grande che ha doppio finger, piano superiore e piano inferiore io sono su, finger finito, si entra nel bestione Hello, 57D Ok, thank you A destra, sono un po' al centro d'aereo perché ho scelti i posti un po' in ritardo ovviamente la parte anteriore è sempre la più comoda ma vabbè dai, non ci lamentiamo 57D è il mio posto quello è il 56D sono là e inizio a far vedere la configurazione a sedili contrapposti questo è il mio posto sono nella parte centrale che è configurata per trapposizioni ahimè non ho tutta una serie di benefit che hanno invece posti più vicini alla fusoliera tipo questi govoni dove mettere cose ed è molto interessante avere quei govoni per mettere cose perché nella business dovete sapere che avete a disposizione un cuscino per dormire una coperta con anche una sorta di lenzuolo e vari accessori, le cuffie e qua io non ho spazio solamente quel misero cassettino dove però metterò gli occhiari, il portafoglio, il cellulare vabbè è andata così e poi vabbè che poi durante il volo questo se pare si può alzare ma pareva se non benissimo e in business lo champagne è un po' un rito magari anche per dormire prima allora non perdiamo le buone snapitudini facciamo un bel unboxing e dentro qua ci sono le calzine per togliere le scarpe e andare in giro a piedi nudi o meglio calzati per l'aereo poi la mascherina per prestazioni no, non è per quello che pensate questo è quello per dormire ecco, forse non si è al contrario questa la si trova qua per non fare entrare la luce tantazzo e poi ci sono cremine e cremette varie con anche i tappi per le orecchie e il dentifricio e spazzolino il sistema di intrattenimento di bordo ha questo schermo che non è grandissimo ma non è nemmeno piccolissimo andiamo subito a vedere i giochi che si possono fare no arcade dimmi che c'è Pac-Man dimmi che c'è Pac-Man sì, no c'è Asteroid Fantasma no, pinball io giocherò tutto il volo al flipper e questa è una cheat su una mia recensione vabbè, torniamo indietro andiamo a vedere che film sono disponibili tra l'altro qua sotto immagino che si possa vedere lo stato del volo watch, quindi guardiamo si può vedere cosa televisione video e tra l'altro prima ho visto che c'è la possibilità qua dell'attacco USB se abbiamo una chiavetta che è roba un po' ormai old e anche l'attacco analogico per il video e questo è il telecomando che forse funziona meglio del touch c'è un simpatico filo quindi un filo comando touch che non è proprio il massimo della reattività penso sia resistivo non capacitivo vediamo i nuovi film che sono disponibili e direi che adesso mi muovo con il telecomando vediamo titoli dai mediamente recenti nel frattempo la sotto ho collegato c'è una presa 220 l'alimentatore ma c'è anche una presa USB e qua c'è tutto il pannellino di controllo del sedile che poi vi faccio vedere in che posizione si può settare l'unica cosa è che ci ho messo un quarto d'ora a capire come funzionava la lucettina si accende in maniera dimmerata facendo scorrere questa leva qua ed ecco a cosa serve la lucetta perché per il decollo hanno spento tutto quindi vediamo anche come gira il video con poca luce allora cosa propone lo chef per cena una bella burrata poi un filetto di manzo che mi sa prenderò dessert non c'è da scegliere nulla questa è la colazione di domani mattina quando mi sveglierò e dal bar una bella sezione di cocktail qua dietro ci sono tutti i vini che sono disponibili ok sono appena decollati e devo dire zero rumore pochissime vibrazioni e dopo il decollo si può alzare il vetro divisorio la faccia non è male questa è una mozzarella al pesto con pomodorini purtroppo la mozzarella è gelida il pomodoro invece buono il filetto è stracotto la cipolla è buona questa cremina di carote è anche abbastanza ma ho paura ad aggredire il pomodoro questo è il classico pomodoro che tu inforchetti e lui ti schizza sulla maglietta c'era una specie di mousse abbastanza buona ci stava anche il formaggio una specie di brie e il pane no sul pane non ci siamo era pane al basilico con anche forse un po' di aglio ma adesso è ora di dormire cuscino una sorta di micromaterasso e la coperta l'importante è tenere fuori le cinture e allacciarle perché se voi state dormendo ma senza cinture allacciate dovreste accendersi il segnale di allacciare le cinture la hostess vi sveglierà invece adesso vi faccio vedere un trucco allacciare era un po' larga la cintura sopra alla coperta ma adesso mascherina spero di farmi sette ore di sonno un minuto dormito secco sette ore forse non è che critica il cuscino che è un pochino troppo altino e non c'è tantissimo spazio per dormire però devo dire che è comodo c'è sedile quando è orizzontale è comodo non mi sono svegliato col mal di schiena ho riposato davvero sentito ma adesso continuo a guardare il film che stavo guardando ieri sera ambulance filmaccio però devo dire che le cuffie non sono male e questa è la colazione ovviamente all'inglese vi ho promesso di farmi vedere il bagno questo è il bagno padronale decisamente più grandicello la colazione non era male a parte il bacon poco tostato e siamo appena atterrati devo dire che l'atterraggio dell'A380 è incredibilmente morbido un po' come il decollo come quelle navi molto grandi che non fanno sentire il mare viaggio tutto ok anche un volo molto silenzioso bye bye thank you bye bye allora devo dire bene il volo l'A380 sempre molto fico peccato che non li facciano più perché non era comodo British non è che li tenga benissimo non era proprio pulitissimissimo però comodo il fatto che sia il finger che praticamente porta a la zona dell'aeroporso che poi non bisogna fare troppa strada per arrivare alle connection quindi devo dire tutto bene anche se non è tra le migliori business che io abbia provato in questi anni e come ho raggiunto il video questo Honor 70 ciao